Giochi, sport, musica e gastronomia sul lungomare. Durerà tre giorni da 6 all'8 giugno una manifestazione International Interaction, pensata per bambini e giovani per promuovere l'interazione tra culture e tradizioni straniere in città. Parteciperanno anche le attività ai ristoratori su Via Partenope che hanno scelto ognuno di loro una nazionalità straniera e presenteranno quindi dei piatti tipici. In più ci saranno spettacoli, musica, International Interaction inserito appunto nel giugno dei giovani e ci saranno molti artisti emergenti della Pogeo Record con musica live e poi ci sarà tanta discoteca dalle 21 alle 24 sempre con DJ emergenti. Medaglia della Presidenza della Repubblica e si sposa con due anniversari speciali come sono quelli per i 40 anni dell'Unicef e i 100 anni del CONI. Per l'occasione il Consiglio dei Ministri ha spostato la giornata nazionale dello sport che si tiene istituzionalmente la prima domenica di giugno all'8 giugno e noi abbiamo approfittato di questa occasione per abbinarci con International Interaction per fare una grossa manifestazione che festeggi non solo i 100 anni del CONI ma anche la gioventù di tutti i colori, di tutte le razze perché lo sport accomuna tutti. I ragazzi attraverso questo progetto avranno la possibilità di capire e approfondire e far proprio quello che è il concetto della parola e del termine interazione che evidentemente è un termine differente dalla parola integrazione perché è un termine certamente più rispettoso di quelle che sono le proprie storie e di quelle che sono le proprie identità. Quindi attraverso delle attività sportive, laboratoriali, ludiche si mirerà ovviamente a far interagire e a far confrontare i nostri ragazzi attraverso appunto di nazionalità diverse, attraverso degli elementi e degli strumenti che siano sempre più di inclusione e di integrazione come appunto permane lo sport, essere lo sport.